Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Anche quest'anno il Natale di Fano si è sposato con la spiaggia. Infatti, grazie all'evento Il mare arriva in centro storico, con i bagnini di oasi confartigianato, è stato allestito nei pressi della Fontana della Fortuna un angolo con lettini, sdrai e mosconi, soup e tanto altro, trasformandolo in una piccola spiaggia. Oltre a fare animazione per i più piccoli e regalare caramelle e panettoni, i bagnini, assieme a Marina dei Cesari e Fondazione Cetacei, hanno fatto una serie di attività per informare sul troppo consumo di plastica e su come riciclarla. Assieme a loro, anche i cani eroi del K9, specializzati nel salvataggio in mare. Anche quest'anno siamo qui in centro della città, abbiamo provato a portare un angolo di mare in pieno centro di Fano. Quest'anno ci siamo mobilitati con lo stesso qualche ombrellone, lettini, abbiamo portato con noi i nostri mezzi di salvataggio per garantirvi la vostra sicurezza durante il periodo estivo. Oltretutto abbiamo una mega slitta di Babbo Natale che porterà tanti doni durante queste festività, spero. E in più quest'anno stiamo collaborando con la Marina dei Cesari, con il progetto SeaClean Life, che è un progetto molto importante, che mira sempre più al non inquinamento del mare, con la plastica, che poi comunque sia sono cose che alla fine ci ritroviamo a mangiare sulla nostra tavola se continuiamo a gettare queste plastiche nel mare tramite questo. E oltretutto, sempre con noi, quest'anno collabora anche la Fondazione Cetacei, che grazie a loro riusciamo a rimettere in mare quelle tartarughe che vengono ritrovate, che sono ferite, insomma riusciamo a ridargli loro una vita. E approfittiamo con tutta la nostra associazione Osi Confortigiana Tofano per fare tanti auguri di Buon Natale e un felice Anno Nuovo a tutta la nostra città. Siamo anche noi qui in piazza oggi per ricordare, come abbiamo già fatto tante altre volte, Marina dei Cesari, Porto Turistico di Pano, che ognuno di noi può fare la differenza. Abbiamo raccolto ieri 40 sacchi di immondizia alla spiaggia Zilla. Ci chiamiamo Banda Burrasca perché ieri erano due gradi quando siamo andati a pulire e non ci siamo spaventati. Ognuno di noi può fare la differenza, possiamo essere protagonisti. Auguri! Buon Natale! Buone feste!